salve cari amici di facebook come state spero stiate trascorrendo delle ore serene magari al mare o comunque in una località fresca per combattere questa ondata di caldo che dirvi sto preparando questo concerto su Bach e a breve vi comunicherò la data e per adesso vi regalo questa piccola gemma preziosa il più piccolo pezzo delle suite di Johann Sebastian Bach dalla quarta suite la burrè seconda grazie a tutti buon pomeriggio e buona serata a tutti a presto grazie a tutti